ciao a tutti oggi vediamo queste bellissime forbici in acciaio inox innanzitutto vediamo sul nostro volantino in particolare queste con il manico in nylon sono tutte forbici prodotte a premana in provincia di lecco dalla dita pomoni è una dita artigianale che lavora da tre generazioni l'acciaio per la produzione di queste bellissime forbici questo è il modello più piccolo sono 155 mm quindi poco più di 15 cm acciaio inox di alta qualità e nylon molto resistente sono i due materiali che costituiscono queste forbici questo modello leggermente più grande 19 cm queste misurano 21 e il modello più grande arriva a 24 cm sono forbici adatte a molteplici usi in ufficio con carta e cartone sartoria per stoffe e tessuti anche di spessore elevato in cucina per carne pesce e verdure sono tutte lavabili in lavastoviglie essendo acciaio inox non si ossidano la filatura è perfetta e duratura proprio grazie all'acciaio speciale che le costituisce queste invece sono sempre degli stessi materiali quindi acciaio inox e nylon ma specifiche per la cucina qui vediamo che le lame hanno un lato dentato questo serve proprio quando si taglia la carne il pesce o le verdure a non far aderire sulla lama quindi restano più facili anche da pulire questa è ancora più specifica e ha la particolarità di potersi aprire quindi il fatto che si possa smontare è comodo per pulirla perfettamente di ogni traccia di verdura o di pesce naturalmente come ho già detto tutte queste forbici vanno anche in lavastoviglie ecco come si apre semplicemente così in modo che si possa andare a pulire perfettamente dappertutto inoltre vediamo che tutti questi modelli hanno la battuta ovvero c'è questa parte sporgente centrale che assicura la chiusura perfetta questo chiamiamolo dente centrale serve proprio per assicurare la battuta ovvero il filo perfetto durante il taglio persino queste più piccole hanno il dente di battuta questi manici in nylon permettono alle forbici di essere leggere e molto maneggevoli spero che le troviate interessanti se vi interessano trovate queste forbici e molte altre sul nostro sito elettronica didattica.com ecco qui rivediamo ancora i modelli vi aspettiamo per i prossimi video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto elettronica didattica e non dimenticate di visitare il nostro sito elettronica didattica.com ciao a tutti ci vediamo per il prossimo video ciao a tutti